11 novembre 1979, Stadio Palmintelli, derby di Serie D tra Nissa e Acragas. A tempo scaduto i biancazzurri portano via due punti con un gol rocambolesco di Matteo Colucci, oggi dirigente a Cragantino. Una rete messa a segno su calcio d'angolo. Il portiere biancoscudato Macellari para, ma il pallone termina oltre la linea di porta. 22 gennaio 2023, la storia si ripete. Esattamente come 44 anni fa, pure a tempo scaduto, l'Acragas conquista la vittoria in prossimità del triplice fischio finale con un guizzo di Barrera. Stavolta lo stadio è il Tomaselli ed i punti gli agrigentini ne portano a casa tre. E pensare che pochi minuti prima del fortunoso gol vittoria, la dea bendata aveva voltato le spalle all'Acragas. Dagli 11 metri, tirando un calcio di rigore, l'ex biancoscudato Desiderio Garufo si vedeva negare la gioia del gol dalla traversa. Ma l'anissa di ieri, bella a metà, ha pagato a caro prezzo l'assenza di un finalizzatore in grado di fare la differenza. E forse si spiega anche per questo l'andamento singhiozzante della squadra allenata d'Alessio Sferrazza, che per quanto fatto vedere in campo contro la prima della classe, meriterebbe tutt'altra posizione di classifica. Certo, chissà quale piega avrebbe preso la partita se dopo un minuto Ottaviano avesse fatto gol da posizione favorevole. E chissà se fosse andato in campo sin dall'inizio, o comunque abbondantemente prima dei minuti finali, il giocatore di maggiore qualità del reparto avanzato, quel Faramarna, che si era fatto apprezzare fin dal suo arrivo a novembre con una prodezza alla Zappalà. Ma nel calcio, si sa, i sé e i ma non contano, e alla fine festeggia l'Akragas che fino all'ultimo secondo ha cercato l'acuto, dopo aver sfiorato più volte, al di là del rigore, l'appuntamento con il gol. Due occasioni su tutte allo scadere del primo tempo, con Locascio, eccellente la risposta del portiere Nisseno, che si ripete poco dopo su una conclusione di Neri. I risultati della diciottesima giornata del campionato di eccellenza, Girone A. Casteldaccia, Oratorio Marineo 0-0, Don Carlo Castellammare 5-1, Enna Gela rinviata, Leonfortese e Profavara 0-0, Mazzara Parmonval 3-0, Resuttana Mazzarese 1-1, Sciacca, Cus Palermo 5-1, Nissa Acragas 0-1. La classifica, Acragas 45 punti, Enna 41, Profavara 38, Don Carlo 36, Mazzara 32, Mazzarese 31, Sciacca 30, Casteldaccia 24, Nissa 22, Oratorio Marineo 19, Castellammare, Leonfortese 17, Gela 12, Resuttana e Cus Palermo 11, Parmonval 8.